ma salve a tutti ragazzi come andiamo? beh sono passati un po' di giorni che non porto video su java per il fatto che sono andato in vacanza quindi non sono riuscito a fare video su java però li ho fatti su velcro quindi c'è chi è che porta video anche quando in vacanza mamma mia comunque quest'oggi sono su hypixel e boh giocherò un po' a riniti tag visto che è un minigame che mi piace molto quindi ci andrò a giocare ah mi dimentico ogni volta che la free look è disattivata su hypixel che bello sium ma io faccio schifo in questa modalità faccio veramente schifo quindi boh vediamo un po' come va avanti la faccenda beh spero vi sia il vostro gradimento eh quello lì voleva voleva eh però se arriva altra gente no tu stai fermo e ti fai beccare il curso TNT eh perché io capisco che c'ho 20 secondi però no diamo un po' ok però non ci dovrebbe essere nessuno che mi insegue mi sono pagato in un blocco per tipo un secondo va bene e poi c'è sempre quel player che mi insegue con la TNT in testa no eh no eh ecco non mi ha solo aiutato ad avermi buttato giù alla fine sì però c'è un altro player che mi segue e no eh te no 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 allora è un torbellino e alla fine succede sempre così allora speriamo che stavolta vada meglio la situa perché sennò potrei non impazzire tanto di più se ne arriva ad occhio conchericcio conchericcio adesso tu vieni qua questa partita non è andata per il meglio eh se mi rigrabba con la TNT sono messo malissimo infatti è meglio che mi mamma mia che comunque sia stato grazie mille che mi ha dato solo notte mamma mia quanto ho rischiato ho rischiato non tanto di più salve 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 perso vengo mi fai giocare sta partita basta hai rotto il bellino perchè ti pichi ora vabbè io me ne vedo balla anch'io qua c'è c'è la gara di ballo c'è la gara di ballo mamma mia oh breakdance oh mamma mia mamma mia oh mamma mia assurdo no 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 io non la voglio sta tenerti troppo responsabilità gra e via oh che capo vuoi dalla mia vita e ne esplodo grazie grazie no 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 scappa 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 si lagga proprio qua si grinda tanto grazie al cielo che skin è ah mi sembra che mi scuglio però di nuovo di nuovo ora eh questa persona è malcapitata eh mi spiace bro mi spiace eh no 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 te prendi questa tnt te la prendi te oh ok oh 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 Grazie a tutti.